Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. E allora, come di consueto, i titoli in apertura per scoprire quali argomenti andremo ad approfondire. FIPILI, finanziare la ristrutturazione con il pedaggio per i mezzi pesanti. CHEU, la Regione si costituirà parte civile. La ristrutturazione della FIPILI è stata al centro dell'intervento in aula del Presidente della Regione Toscana, che ha così risposto ad un'interrogazione sul tema del portavoce dell'opposizione Marco Landi. L'obiettivo è quello di potenziare l'arteria del sistema stradale toscano grazie ad un intervento strutturale che comporta ingenti spese. Per rendere sostenibile l'intervento da un punto di vista economico, Gianni ha ipotizzato un pedaggio selettivo. Abbiamo intenzione, dopo lo studio fatto da KPMG, di provvedere alla realizzazione di una società ad hoc, una società in house della Regione, Toscana Strada S.p.A., che si proponga non l'intervento di rincorsa alla manutenzione stradale nella FIPILI, ma possa, certo a tratti, con scansioni diverse, ma provvedere a allargarla e a potenziarla, allargarla attraverso la terza corsia dove è possibile e altrimenti realizzando corsie d'emergenza, che oggi non ci sono. Così, quando anche avvengono i lavori di manutenzione ai lati o al guardrail centrale, può essere a quel punto mantenuta la direzionalità, come avviene in autostrada, per tutte e due le corsie, evitando quindi che anche i semplici lavori di manutenzione ci tengono qualche mese con file di 5-6 km e poi anche quando riabiliti hai semplicemente fatto la manutenzione, ma non c'è la possibilità di pensare a un futuro migliore. Per far questo occorrono almeno 15-20 milioni l'anno e per far questo probabilmente sarà opportuno il pedaggio selettivo, ovvero non a tutti i veicoli ma ai tir che possono essere controllati con il sistema satellitare, con 5 grandi strutture che siano archi metallici e che possano controllare, verificare e essere rete di un controllo satellitare di cui sistemi ha la società autostrade. Dopo aver ascoltato l'intervento di Gianni, questo il commento del portavoce dell'opposizione Marco Landi. La questione chiaramente riguarda 40 anni di una strada che nella gestione comunque di questa parte politica non ha mai avuto un approccio sulla manutenzione, sulla sistemazione. Si è parlato della realizzazione di una corsia di emergenza, addirittura si parla anche di una terza corsia per i tratti dove è possibile farla e questo sicuramente è un elemento positivo che noi come centro-destra avevamo anche nel nostro programma elettorale. Qualcosa va fatto, però se si pensa di sistemare una situazione come quella della superstrada Firenze-Pisa-Livorno, lasciata in uno stato di abbandono di manutenzione sempre straordinaria in questi ultimi 40 anni, facendo pagare il petaggio selettivo ai trasportatori, ai mezzi, oltre tre tonnellate e mezzo, a noi non convince anche perché poi quel petaggio sicuramente non andrebbe a coprire, si stima un introito di circa 15 milioni e questo chiaramente non sarebbe un importo sufficiente per poi garantire la sistemazione effettiva di questa strada. Quindi è un percorso lungo che noi abbiamo voluto portare all'attenzione del Consiglio e che sarà tema importante dei prossimi mesi da discutere anche sulla fattività di questa iniziativa che ci lascia anche sul tema della legittimità perplessi. Sul futuro della Firenze-Pisa-Livorno sono intervenuti anche i consiglieri Stefano Scaramelli e Direne Galletti, rispettivamente capogruppo di Italia Viva e del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale. Sulla Firenze-Pisa-Livorno serve massima attenzione da parte di Italia Viva, verrà monitorato attentamente la progettualità di una società in house, quello che serve non è mettere un balzello di natura economica contro le imprese o contro i tir, con tanti autotrasportatori che tutti i giorni devono percorrere quell'arteria per lavoro, serve fare un grande investimento. La società in house può essere un'idea, ma noi siamo convinti che il finanziamento debba essere richiesto su livello nazionale, in gran parte d'Italia è l'ANAS che fa questo intervento con risorse di bilancio nazionale, il governo non può esimersi dalla responsabilità politica in Toscana di mettere risorse e di fare questo investimento. La società in house può essere un buon volano di investimento, ma a nostro avviso gli interventi possono essere puntuali, diretti e quindi la competenza passare di livello regionale, ma nel contempo ottenere risorse non tanto dalle aziende che lavorano, quanto ovviamente dal governo. Su questo entriamo nei dettagli nel momento in cui la proposta verrà predisposta e arriverà in Consiglio regionale, adesso è soltanto un'ipotesi, su questo Italia Viva vuole dimostrare di essere al fianco delle imprese, al fianco degli autotrasportatori, al fianco della Toscana che lavora, che si muove, che produce. Io credo che l'analisi e le considerazioni del Presidente Gianni su come porre un rimedio alla situazione della Firenze-Pisalivorno, che rende impossibile la vita di due terzi dei toscani per quanto riguarda i trasporti, siano surreali. Sta parlando una persona che non si rende conto di cosa significhi probabilmente riuscire a gestire un'arteria che negli anni 90 è nata con un progetto già vecchio, con delle gravi criticità e per la quale lui sta pensando soltanto a trovare un sistema per creare una SPA dai costi non meglio definiti, probabilmente per mettere su un CDA di persone nominate, quindi per interessi che non hanno nulla a che fare con la viabilità e soprattutto basandosi su un rapporto che al momento nessuno di noi ha visto, un rapporto che è sul piano finanziario e quello probabilmente sì sarà riuscito a trovare un sistema per far quadrare i conti, ma sicuramente non tiene conto di cosa significa per tutte le aziende, per tutto il sistema manifatturiero e commerciale, il tessuto economico della Toscana che nel corso degli ultimi 30 anni è cresciuto intorno a questa arteria significa non capirne le conseguenze economiche in un momento tra l'altro, una circostanza di aumento generalizzato dei prezzi che non ha precedenti, significa scaricare sull'utente finale i costi di quel pedaggio, perché questo saranno il significato e se non saranno scaricati sull'utente finale saranno scaricati sulle aziende. La vicenda che è utorna sui banchi dei consiglieri regionali e lo fa con un elenco degli interventi messi in atto dalla regione fino a questo momento. Il documento è stato consegnato dall'assessore all'ambiente Monia Monni in risposta all'interrogazione relativa alle attività di monitoraggio e bonifica nei territori interessati che era stata presentata dal consigliere del Partito Democratico, Francesco Gazzetti. Sono stati forniti dati, è stata fornita anche una raffigurazione delle operazioni in corso e sono anche stati evidenziati degli elementi molto importanti, la volontà della regione toscana di costituirsi parte civile, l'appello tra l'altro. Ecco, questo secondo me le forze di opposizione sicuramente non faranno mancare il loro appoggio per il completamento dell'iter per l'individuazione della struttura commissariale. Sul resto anche a seguito di una serie di approfondimenti che sono stati anche depositati dall'assessore Monni così come annunciato in aula in consiglio regionale penso che tutti abbiano finalmente la possibilità anche di uscire dall'interpretazione di temi che a volte sentiamo o leggiamo e ci si possa, e questo è lo spirito con il quale ho deciso di presentare questa interrogazione, si possa entrare nel merito e si possa affrontare la questione ECHEU con anche la possibilità di condividere un approccio e schierandosi ovviamente al fianco di chi come dal nostro punto di vista fa la giunta regionale e sta agendo in maniera molto concreta e opportuna per un raggiungimento di un obiettivo che è quello della sicurezza e la salute ovviamente delle Toscane e dei Toscani. Non soddisfatti dei tempi i consiglieri di Fratelli d'Italia, come spiega Alessandro Capecchi. Abbiamo ringraziato comunque l'assessore Monni del quadro che ha fornito oggi in risposta a un'interrogazione e poi aggangiandoci alla discussione di una mozione dei 5 Stelle che chiede ancora una volta che il Consiglio regionale sia informato per tempo e con continuità sulla vicenda ECHEU. Non siamo soddisfatti dei tempi perché in realtà la Toscana e i Toscani attendono già da molti mesi l'avvio delle bonifiche promesse che invece anche per lungaggini burocratiche legate ai procedimenti e all'interpretazione delle norme ancora non sono partite. Inoltre ci siamo presi in carico perché eravamo stati i primi insieme al nostro capogruppo Torselli a porre la questione del commissario straordinario per le bonifiche nazionali perché il decreto 152 lo consentirebbe. Ci siamo resi disponibili a sollecitare il Governo a procedere alla nomina perché quando lo proponemmo noi addirittura a giugno del 2021 la giunta regionale ci disse di no. Oggi invece hanno cambiato idea, ancora una volta seguono i fratelli d'Italia con un po' di ritardo e vedremo e speriamo che ci sia questa nomina perché è giusto e opportuno che ci sia differenziazione fra coloro che hanno ruoli di governo e di gestione dell'ordinario all'interno della regione toscana e coloro che invece si devono occupare di una questione molto delicata, complessa e immediata come le bonifiche. Secondo Elena Meini, capogruppo della Lega, sono pochi i passi in avanti fatti dalla regione. Siamo allo stesso punto di più di un anno fa. Ancora si dice partiranno i piani di caratterizzazione che sono quei piani che permettono e portano poi alle bonifiche. Partiremo in alcune aree con le bonifiche, il piano è aggiornato, aiuteremo i comuni, però la situazione fondamentalmente non è variata rispetto a un anno fa. Siamo ancora allo stesso punto. L'unica innovazione è che la regione ha deciso di mettere a disposizione 10 milioni per le bonifiche. Questi 10 milioni ancora non sappiamo come verranno utilizzati. I tre sono i siti che coinvolgono la regione, gli altri siti sono in capo agli enti locali che non hanno la strumentazione, non hanno le capacità tecniche all'interno dei comuni. Pensiamo che sono stati coinvolti comuni piccolissimi, con personale a disposizione veramente limitato, che non hanno le competenze per preparare un piano di caratterizzazione e poi riversare i soldi anche che servono per il piano di caratterizzazione e le bonifiche verso gli attori coinvolti. Il procedimento della magistratura è ancora in corso, le indagini preliminari sono chiuse, però ancora non abbiamo notizie in merito. Quindi fondamentalmente tante parole, però pochi fatti, poche novità su quello che è l'accordo di programma, poche novità sul piano di bonifiche e di caratterizzazione, poche novità sul futuro anche di quel distretto. La regione toscana si costituirà parte civile nell'eventuale processo che scaturirà dall'inchiesta sullo smaltimento illecito del CHEU. La conferma arriva proprio dal Consiglio regionale che con 26 voti a favore e nessuno contrario ha approvato una mozione della consigliera 5 Stelle Irene Galletti. La preoccupazione riguardo il fatto che questi sversamenti di materiali contenenti CHEU abbiano raggiunto molte più parti della Toscana è un dubbio, un timore fondato su dei numeri che sono emersi grazie anche a un accesso agli atti che abbiamo fatto e da dei rilevamenti che sono stati fatti anche da ARPAT e riguardano le centinaia di migliaia di tonnellate di conferimenti di questi fanghi che sono stati fatti all'epoca, nel corso degli anni. Si parla dal 2014 in poi che all'improvviso si sono dimezzati, sono andati quasi ad esaurirsi nel 2016 con un procedimento, con dei passaggi che sono ancora oggi al vaglio delle autorità. Significa che ci potrebbero essere tonnellate e tonnellate ovunque in Toscana. Serve un'indagine documentale prima e in loco successiva fatta da ARPAT perché secondo noi il rischio che la Toscana sia un focolaio denso di questi luoghi di inquinamento è alto ed è importante che la regione toscana abbia accolto l'appello che è stato fatto da CGL e Libera anche nel corso del convegno regionale a cui ho partecipato insieme a molti assessori dove tutti hanno sottolineato il profondo legame tra lavoro, ambiente e salute. È stato ribadito questo e di nuovo CGL e Libera hanno fatto un invito alla regione toscana a costituirsi parte civile non soltanto per un dovere morale ma anche per un dovere nei confronti dei cittadini che altrimenti con le loro tasche, la loro fiscalità dovranno pagare le bonifiche. Così Meini sulla costituzione come parte civile della regione nella vicenda Cheu. Sicuramente il fatto che oggi ci venga confermato che la regione si costituisce parte civile continua il percorso appunto per andare a capire chi sono i soggetti coinvolti anche dal punto di vista amministrativo e far pagare chi veramente è inquinato in quei territori e non far pagare tutti i cittadini toscani è un passo in avanti ma non basta. Questa era la nostra ultima intervista vi ricordo che Cronache e Commenti ritorna la prossima settimana.